Il primo esercizio che ho fatto è un'occasione per un po' anticipare delle cose come vi ho accennato, quindi qual era la situazione? Avevate il solito pavimento liscio, avevate una molla caricata, aveva uno stantufo e c'era appoggiato un altro corpo, questo era di massa m picco, questo è di massa m grande, questa è una costante elastica, era caricato, questo è x uguale a zero, questo è x zero che è negativa, ma voglio esplicitamente scrivere x zero come meno una quantità positiva, quindi questa separazione qui, quindi voi caricate la molla, deformate la molla di 5 centimetri, ma come? Allungato e compresso? in questo caso è presso, ma è 5 centimetri, quindi x zero è negativa, ma è esplicito il segno meno e quindi A qui è una grandezza positiva, va bene? Di quanto avete deformato, di quanto avete spostato la massa dalla posizione di collinello, in questo caso verso sinistra. Quindi riassumiamo molto rapidamente i tre grafici, in funzione del tempo avete il grafico che so della posizione, quindi sapete che la posizione dove posso scrivere, e ho riassunto, quindi in teoria non serve che voi scriviate perché ce l'avete già sul quaderno, è meno A coseno di radice di k, radice di k diviso m più m grande p, questo era quindi per cortesia, se no questa discussione la faremo anorare. perché ho scritto qua, visto che devo fare, dove posso scrivere, perché voglio fare disegni qua, tipo qua il piccolo, x di t, vi dico quello che voglio dimostrare, se c'è ancora rumore, ve lo lascio da fare da voi, ok? Quindi quello che voglio dimostrare, è che dopo che il corpo M maiuscolo sia staccato, quindi dopo distacco, l'energia cinetica del corpo, facciamo così, M grande e l'energia cinetica del corpo M grande, è uguale a mezzo k a quadro, che moltiplica, questo è quello che abbiamo fatto prima, no? voglio che voi dimostrate, con o senza il mio aiuto, che l'energia cinetica del corpo piccolo dopo il distacco, è una cosa del genere, quindi scriviamo, quindi questa roba qui, questa qua, rappresenta l'energia cinetica del corpo piccolo, quindi della massa dello stantuffo diciamo, quindi questo qua, che sia chiaro, è l'energia cinetica dello stantuffo, questa invece è l'energia cinetica del proiettile, ok? Questa è l'energia cinetica, questa qua nel riquadro, che moltiplica così il quadro, è l'ampiezza, se volete il valore massimo dell'energia dello stantuffo, l'energia cinetica dello stantuffo continua a cambiare del tempo, perché è attaccato alla bolla, lui sta avanti e indietro, c'è un momento in cui si ferma e per un attimo è istantaneamente velocità nulla, l'energia cinetica è zero, no? è fermo, poi questa velocità sta passando per x uguale a zero, con la massima velocità al valore dell'energia cinetica massima, poi la velocità si riduce fino a zerarsi, quindi lo stantuffo continua a cambiare velocità, l'energia cinetica dello stantuffo è un cosen quadro, dimostrate quello, e dimostrate che l'ampiezza di questo cosen quadro, cioè il valore massimo se volete dell'energia cinetica, è questa espressione qua, e di notare che la somma dell'energia cinetica del proiettile, quello che io ho chiamato Km, non è inutile scriverlo, l'ho fatto apposta per risparmiarmi la scritta, quindi la somma di K dell'energia cinetica del proiettile più l'energia massima dell'energia cinetica dello stantuffo, questo è uguale a un mezzo K a quadro. Voglio che dimostriate questo, lo facciamo assieme o ve lo do come compito per portare l'orale? Stare in silenzio di tomba, stare in silenzio di tomba è la risposta della persona saggia. Io continuo a sentire un brusio, mi da molto fastidio, ho dormito pochissimo ieri sera, sto su solo per nervi, e quindi fatevi incazzare che io lavoro meglio. Questo è questo grafico qua, ma con il corpo M non incollato, cioè solo appoggiato, in realtà già è sottomodato, io ormai devo cambiare i colori, devo proprio prendere la scatola perché i colori miei preferiti sono ormai spariti. Questo è corretto solo fino a qua, no? Questa equazione è valida solo per t da zero fino a t quarti, ok? Poi avviene il distacco e non è più vero, d'accordo? Allora, la velocità fino sempre allo stesso intervallo cos'è la derivata di questo? e dovrebbe essere, di nuovo continuo a scrivere qua quando voglio fare il disegno. Allora, la situazione più facile è A K diviso M più M grande, questo è Omega quadrato, questo è Omega, questo è Omega quadrato, A Omega quadro e un coseno col segno più. Ok, sono ticoglioni, questo lo facciamo all'orale. Va bene, cambiamo esercizio, facciamo questo qua, questo è il solito tavolo liscio, In questa posizione qua, nella posizione X1 c'è il corpo 1, nella posizione 2 c'è il corpo 2, sono collegati da una molla, non c'è attrito, vogliamo farlo assieme o ve lo darò come esercizio? Non c'è attrito, immaginate che la lunghezza della molla a riposo sia questa, quindi una certa distanza L, non c'è pericolo, questo esercizio non c'è niente che vuota, quindi posso usare il simbolo L maiuscolo, non c'è timore di confondere con il momento della quantità di moto, Certo, se alcuni di voi lo confondono con il momento della quantità di moto, forse non sono portati per la materia esceziva, non c'è mica niente di male, andate a studiare lettere. Scriviamo l'equazione del moto, per il momento possiamo immaginare che abbiano masse diverse, poi specificerò gli esercizi in cui hanno uguale massa, ma per il momento scriviamo in generale, Equazione del moto MA uguale a F, M2, l'accelerazione della particella 2, quindi faccio così, è uguale alla forza che esiste sul corpo, la scriviamo così, e dovete convincervi che è corretto scriverlo così. Pensate un attimo, questa è la lunghezza della molla. Quando chiamiamo y uguale a x2-x1-l, guardate, quando x2-x1 è uguale a l, cosa succede? Avete che y è uguale a 0, e vabbè, ma cosa vuol dire? Che la separazione dei due corpi è proprio uguale alla lunghezza di fabbrica, quindi l è la lunghezza di fabbrica della molla, quindi quando x2-x1 è uguale a l, vuol dire che la molla non è compressa e non è allungata, ok? Quando invece y è maggiore di 0, cosa vuol dire che y è maggiore di 0? Vuol dire che x2-x1 è maggiore di r, cosa sta succedendo? La molla è allungata, le particelle sono più distanti dalla lunghezza di fabbrica della molla. Quando y è minore di 0, avete che x2-x1 è minore di l, quindi la lunghezza, la distanza dei corpi l'uno dall'altro è minore della lunghezza di fabbrica. Quindi la molla è compressa, ok? Allora, questo vi da la forza giusta sulla particella 2? Quando y è maggiore di 0, quindi siamo nel caso in cui questo è maggiore di questo, questo è positivo, e qua c'è il segno meno, vuol dire che la forza è verso sinistra e in effetti quando questo corpo è troppo in là, come nel disegno, vedete che la molla accentua il disegno. Accentiamolo, così diventa molto chiaro, questa è la lunghezza della molla di fabbrica, il corpo 2 è qua, il corpo 1 è qua, è evidente che la molla è molto deformata, qual è la direzione della forza sul corpo 2? È verso sinistra, d'accordo? Quindi questa formula vi descrive bene quello che vi aspettereste. Qual è la forza sul corpo 1? Quindi qual è la legge del moto del corpo 1? Attenzione, il corpo 1 e il corpo 2 stanno interagendo tramite la molla, non c'è alcuna altra forza nella direzione orizzontale sul corpo 1, se non quella che viene dalla molla, non c'è alcuna forza sul corpo 2 nella direzione orizzontale tranne quella che viene dalla molla, quindi se questa è la forza sulla particella 2, la forza sulla particella 1 è ovviamente la stessa cosa ma cambiato di segno, pensateci. quando questo è positivo, quando la molla e i corpi sono molto separati, più della lunghezza di fabbrica, il corpo 1 ha una forza verso destra, e il corpo 2 ha una forza verso sinistra, e la forza che sentono è quella data dalla molla, e la molla eserce la forza in funzione di com'è deformato, d'accordo? Adesso possiamo fare una semplice cosa, per esempio sommare queste due equazioni assieme, avete m1 x1 accelerazione, m1 accelerazione del corpo 1, più m2 per l'accelerazione del corpo 2, questo è uguale a cosa? Quando le sommo a membro a membro, questo è uguale a comprare quello che è fuori 0, e voi cosa deducete da questa equazione qua? deducete, cosa che potevate già dedurre, che l'accelerazione del centro di massa è uguale a 0, cioè che la velocità del centro di massa è uguale alla costante. Qual era l'accelerazione del centro di massa? L'accelerazione del centro di massa era, vedete come ogni cosa è un'occasione per ripassare, quindi il numeratore dell'accelerazione del centro di massa è 0, perché è 0? Perché non ci sono forze esterne, no? Le uniche forze che il corpo 1 e 2 sentono sono dovute all'altro, non ci sono forze esterne, lo potevamo sapere anche prima di scriverlo. Ma facciamo un'altra cosa, invece di sommare queste equazioni, proviamo a sottrarle, però facciamo un esempio semplice, dove le due masse sono uguali, bene, adesso l'equazione della particella, siccome gli studenti non piace che il docente cancelli brutalmente con le dita, lo riscrivo per la particella 2 sarà questo, e per la particella 1, visto che stiamo facendo il caso speciale che m1 è uguale a m2, adesso sottraiamo, hanno la stessa massa, quindi abbiamo m questo meno questo, quindi ho x2 meno x1, ho messo in evidenza la massa in comune, quindi ho la differenza delle situazioni, e questo è uguale a meno 2k x2 meno x1 meno l. Questa qua l'avevo chiamato y, quindi cos'era y? Di nuovo mi raccomando state zitti, perché mi sta veramente facendo leggere i coglioni, se no passo la prossima ora a elencare gli esercizi di cui sarete responsabili, nell'elenco li scrivo brevemente e lascio a voi i conti, l'ho già fatto con uno, vorremmo fare anche questo? Dai! Allora cos'è y di nuovo? y è una misura di quanto la distanza tra i due corpi, quindi x2 meno x1 cos'è? Se questa è la posizione x2 e questa è la posizione x1, cos'è x2 meno x1? E' la distanza tra i corpi, no? Quindi questo rappresenta la distanza tra i corpi, se volete la possiamo chiamare d, quindi y è uguale alla distanza tra i corpi, quindi ovviamente sarà la funzione del tempo, meno L, quindi y è una funzione del tempo, d'accordo? Cosa misura y quindi? Misura la differenza tra la distanza dei corpi e la lunghezza di fabbrica della molla, d'accordo? Chiaro? Molto semplice? Quando y è uguale a 0 la distanza dei corpi è uguale alla lunghezza della molla, quando y è maggiore di 0, quando y è minore di 0, d'accordo? Quindi se volete corredate con un disegno, perché un disegno non guasta mai, quindi questa è la lunghezza di fabbrica, nel caso in cui y è uguale a 0, avete per esempio che un corpo è qui e se y è uguale a 0, allora l'altro corpo deve essere proprio alla distanza L, quindi questo è proprio L, perché la molla è qua in mezzo senza deformazioni, quando y è maggiore di 0 avrete una situazione in cui la distanza dei corpi è superiore a L e quando y è minore di 0 avete una situazione in cui la molla è molto schiacciata, ok? Questo è y uguale a 0, y maggiore di 0, y minore di 0, ok? D'accordo? Questa roba cos'è? Visto che la derivata, questo cos'è? E' la derivata seconda di x2 meno la derivata seconda di x1, dove x2 e x1 sono ovviamente funzioni del tempo, no? In generale il corpo 1 e il corpo 2 si stanno spostando, L'operatore derivata seconda addirittura è lineare, quindi questo può essere scritto come la derivata seconda rispetto al tempo di cosa? Di x2 meno x1, quindi questa cosa qua rappresenta il rateo, la derivata seconda addirittura, la derivata seconda della distanza tra i corpi, per la distanza tra i corpi, adesso pensate una cosa, questo è y, cosa è questo? Se io faccio la derivata seconda di y, lascio a voi il passaggio così banale, è evidente che la derivata seconda di y è uguale a questa roba qua, ok? E' evidente che la derivata seconda di questo qua è proprio questo, perché? Perché la lunghezza di fabbrica è una costante, no? La derivata di y è la derivata di questo, meno la derivata di questo, meno la derivata di questo, La derivata seconda è la derivata seconda di questo, meno la derivata seconda di questo, quindi la derivata seconda di y è proprio questa roba qua, quindi questa equazione qui posso veramente scrivere in questo modo, m y 2 punti uguale 2k y, e qua dovreste subito saltare sulla sedia, perché questa è un'equazione di differenza secondo ordine, lineare, omogenea, e sapete la soluzione? Quindi sapete che y, se volete la separazione tra le due masse, sottratto la lunghezza di fabbrica, ma è questa la parte che dipende dal tempo, questa variabile y è un coseno o un seno o la combinazione delle due, quindi se per caso avete questi due corpi, io tengo la molla, quindi la molla di fabbrica è così, attacco due corpi magari della stessa massa, perché sto descrivendo questo caso, le separo, ok? E lascio la presa, cosa succede? Intanto il centro di massa non va da nessuna parte, quindi se erano, se tenevo fermo, cioè separo, li separo, eccolo qua, li tengo fermi, dov'è il centro di massa? Hanno la stessa massa, il centro di massa ha il centro geometrico, quando lascio la presa, che il centro di massa non va da nessuna parte, sta là, ma la separazione tra le variabili, tra le masse, oscillerà come un coseno, se li faccio partire da fermi, quindi y, che è questa misura qua, sarà un coseno, e qual'è il periodo di questa oscillazione? Quindi, questa è la lunghezza di fabbrica, le separate, due masse uguali, lasciate la presa, fanno... qual'è il periodo di oscillazione? Guardate la formula, è tutto qua, non sono i passaggi, è l'imparare a guardare, voi guardate questa, la scrivete se volete in questo modo qui, addirittura se volete lo dividete per m, ed ecco, forse è così, siete in grado di dirmi qual'è il periodo di oscillazione? Il periodo di oscillazione è 2pi greco diviso omega zero, e chi cazzo è omega zero? Omega zero quadro è questa roba qua, ok? E spero che notiate la differenza tra il caso di avere la stessa molla con un'unica massa attaccata a una parete, Qua il periodo cos'è? E' 2pi greco, certo, diviso l'omega zero di questo esercizio, ma in questo esercizio era x due punti, più k diviso m, x uguale a zero, e questo era omega zero quadro. Qua c'è un 2, e qua non c'è. Quindi qui il periodo è 2pi greco m diviso k. Quale dei due ha un periodo più piccolo? Una massa attaccato a un muro, o due masse uguali attaccate allo stesso tipo di molla? Guardate la formula, questo ha un 2 qua sotto, quindi questo ha un periodo più breve di questo. Quindi quando attaccate una massa a un muro, cos'è un muro? Un muro è qualcosa che ha una massa infinita, infinita intendo dire che la massa di questo è molto piccola rispetto a questo. Quindi un muro equivale ad avere la vostra massa m attaccata a una molla, all'altra parte della quale c'è una cosa che ha una massa gigantesca. Non si dice in italiano, una massa spaventosa, un muro, il periodo è 2pi greco m radice di m diviso k. Se dall'altra parte della molla c'è una massa identica, c'è un gemello, ecco che il periodo è diverso, è più piccolo. Quindi fa gna 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 invece di gna 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 attaccato a un muro. Meditate su questo fatto qua. Ma la cosa interessante è che se voi caricate la molla e lasciate la presa, il centro di massa sta fermo. E queste due masse oscillano con un periodo che è diverso da quando è attaccato a un muro e il centro di massa non si muove. Oppure, un'altra variante dell'esercizio, prendete la molla, la allungate, camminate a un metro al secondo in quella direzione. Lasciate la presa. Cosa succede? Il centro di massa avanza a un metro al secondo. Ma queste qua fanno così. Il centro di massa continua la velocità costante ma attorno al centro di massa le due masse stanno a y che oscilla come un coseno. D'accordo? Semplice no? Meccanici. Un altro esercizio. Siccome non sono proprio, proprio, proprio lo strozo durante la pausa, ma senza aprire bocca, farò i passaggi per dimostrarvi che l'energia cinetica vale avere esistito il problema. Però non lo faccio a voce. Quindi, voi invece di fare pausa, fumare, rubinarvi la salute, prendete appunti. In questo consiste la mia pulizione. Però ve lo faccio. A presto. Altre esercizio. Altre esercizio. Chi ha mai fatto? Io non l'ho fatto e non credo che potrò mai più farlo perché ho problemi cardiaci. Altre esercizio. Qualcuno l'ha fatto e faccio già bene? Perché non avete avuto l'opportunità o siete dei fifoni? Mi raccomando, se lo fate, fate lo stomaco vuoto e anche vescica vuota. E andate in bagno. Sì, sì. Liberatevi e non mangiate perché potreste vomitare o farvelo ad osso. Perché succede? Questo è un soffitto dalla quale pende una molla ideale. Questa non è una molla ideale per due motivi. Per due motivi. Lui si limita a richiamarsi ma non è comprimibile. Cioè riesco ad allungarlo ma non a comprimerlo. Quindi non è proprio una molla nel senso di hook. Non è una molla. Quindi riesco ad allungarlo ma la molla è quella che avete sul letto. O poi aprite il materasso o sventrate perché il materasso là avete una molla. La molla è nell'abortizzatore di una macchina che può essere allungata e anche compressa. Quella è in segola l'esercizio. Questo non segue l'esercizio. Però non è ideale. Guardate un attimo. Guardate la separazione tra, è una elica, una specie di elica, una spirale. Guardate la separazione qua e la separazione qua giù. Vedete quassù la separazione è maggiore e la separazione qua giù è più piccola. Perchè? Perchè la massa della molla non è trascurabile. Questo mi permette magari di fare un iniziale esercizio molto semplice. Questo è un soffitto dalla quale pende non una corda ideale ma una corda reale. per esempio una catena o una corda di canapa o qualcosa del genere. E vi chiedo, qual'è la tensione della forza qua? Qual'è la tensione della forza qua? Qual'è la tensione qui? Allora chiamiamo questo l'asse x. Questo lo chiamiamo x uguale a 0. La lunghezza della corda magari la chiamiamo L. Dovrebbe essere evidente a voi che la tensione della corda, Cioè cosa intendo per la tensione? Intendo, se voi avete la vostra corda e io voglio sapere qual'è la tensione in questo punto, voi dovete fare questo esercizio mentale. Dovete immaginare di tagliare la corda qua, sostituirla con un breve tratto di corda ideale e chiedervi adesso, adesso qua questo pezzo di spago ideale, che forze stanno agendo su quello spago? Lui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto. Quindi lo spago qui deve reggere la forza peso di questo più la forza di questo. Quando invece chiedo qual'è la tensione quassù, se voi in un altro punto, per esempio quassù, sostituisco con uno spago. E' chiaro che lo spago qui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto. Se chiedo qui, mi sostituite con uno spago qua. Quindi questo dovrebbe farvi capire che la tensione dipende da dove siete sul filo. Su un filo reale. Il filo reale ha massa. Un filo ideale ha massa trascurabile, ma un filo reale, come questa molla, non è un filo, però ha una massa reale, lo vedete che la separazione qua è più piccola di qua. Vediamo se riuscite a intuire perché è così. Allora, se io vi chiedo qual'è la tensione qua per x uguale a L, cosa scrivereste? Se questo corpo qua giù la indichiamo con, magari questo è il corpo di massa M, invece questa corda qui, immaginate che sia una corda omogenea, così usiamo qualche concetto che ci è già un po' familiare. Cos'è una corda omogenea? Una corda omogenea è caratterizzata da una densità lineare, che indichiamo il simbolo lambda, no? Un certo numero di chili al metro, se usiamo nel sistema internazionale. Quindi, quando sono qua giù, la corda deve solo reggere la forza peso del blocco che gli è sotto. Quindi qua è facile scrivere, questo è il corpo di M, scriverei Mg. Quindi, se sono qua su, anche questo è facile, la tensione quando x è uguale a 0, cosa scriverei? Lui per tenere il filo nel collimero deve contrastare la forza peso. Qua su, dovete contrastare la forza peso di tutto quello che è sotto di voi. Quindi, c'è sì la forza peso di questo, ma c'è anche la forza peso di tutto lo spago. Lo spago, indichiamolo con la lunghezza L, quindi qua avrò Mg, d'accordo? Più la forza peso dello spago, che è seno omogeneo, lo descrivo col fattore lambda. Lambda per L è la massa dello spago e per G, perché è quella la forza peso. E per un punto intermedio, qual è la formula che descrive bene? Allora, in questo punto qua, ha un certo valore di x, la tensione qui, di nuovo qual è l'idea? Dovete immaginare mentalmente di mettere uno spago ideale, un filo ideale, e di chiedervi, per tenere questo, per tenere l'equilibrio, la forza verso l'A, qui, deve essere esattamente uguale alla forza verso il basso. La tensione del filo deve essere esattamente uguale alla forza del peso. E cos'è questo? Questa è una certa lunghezza, e quanto è? L-x, quindi scriverei così, Mg, che è la massa del corpo qua giù, più lambda, che è L-xg. Quindi questa è la lunghezza L-x, e la lunghezza dello spago che sta sotto il punto x. D'accordo? E vedete come questa espressione torna quando l'x è uguale a 0, ho questa espressione, quando l'x è uguale a L, ho questo. D'accordo? Se vi fermate a pensare un attimo, è molto semplice da scrivere. D'accordo? Quindi capite adesso perché intuite, perché il conto di cosa avviene qua è complicato, ma al di non intuite il perché la distanza qua tra l'elica è maggiore di qua giù. Qua giù è di più perché deve reggere il peso di tutta la molla che è sotto. Quindi la molla è più allungata. Qua la forza peso, in questo punto, della parte della molla che è sotto, è minore, quindi la forza è meno allungata. D'accordo? Va bene? Ok, questo era solo il preliminario venuto in mente adesso. Io voglio fare i palleggiabili. Che invece di una corda che non cambia la sua lunghezza, io voglio una molla. Una molla ideale, non come questo qui. Una molla ideale per me sarà una molla di massa, si sarà legge di U, d'accordo? Ma sarà anche di massa trascurabile. Quindi questa è la molla con la sua lunghezza di fabbrica, perché non ha una massa tale da deformarlo, la forza peso non lo deforma dal valore di fabbrica. Questo è il valore di fabbrica, ma la forza peso lo allunga, no? Chiamo questa la direzione X. Chiamo questo X uguale a 0. Mi viene spontaneo farlo. X uguale a 0, perché no? È la posizione della molla non deformata. Quindi X positivo, la molla è tirata verso il basso, è allungata, X negativo, la molla è spinta verso l'alto e è compressa. Adesso attacco qui un corpo, anzi faccio il disegno qua accanto, attacco qua un corpo e la molla per il momento, faccio l'esperimento e qui noto con la mano che io voglio tenere il corpo fermo, non voglio che si muova da questa posizione e noto che devo sostenerlo, devo fare uno sforzo, devo spingere verso l'alto. Invece io posso cominciare a diminuire la forza da mano e vedo che il corpo ha la tendenza a scendere, ha la tendenza a scendere. C'è una posizione lungo la verticale dove non devo esercitare alcuna forza, cioè lo sforzo muscolare che sento al tenere la mano corrisponde a quello di semplicemente tenere la mano in questa posizione. c'è una posizione dove lo sforzo muscolare che io devo applicare non c'è. Quando è quassù la sento, se in questo qua metto un cubo di sughero, un cubo d'oro, un pianoforte a coda, sento un enorme sforzo a tenerlo là. Se invece porto la molla molto giù, lo allungo tantissimo, ovviamente voglio fare il disegno recentemente, quindi sto allungandolo molto, quando lo tiro molto giù, noto che la forza devo applicarla verso il basso. Ok? C'è una posizione dove qua sto spingendo verso l'alto per tenerlo fermo, qua sto spingendo verso il basso per tenerlo fermo. C'è una posizione lungo la verticale dove non devo applicare alcuna forza, nel senso che tengo fermo senza sforzo il corpo, lascio la presa e lui sta fermo, invece se lascio la presa qua, quel cazzo sta fermo, va giù, e se lascio la presa qua, quel cazzo sta fermo, va su. C'è una posizione dove rimarebbe in equilibrio. Equilibrio vuol dire che non fa nulla, e interpreto quindi il punto di equilibrio come un punto dove la forza è evidentemente complessiva e zero. Ma qual è la forza che sta agendo sul corpo? La legge di Newton uno scriverebbe M a x due punti, x è verso il basso, è la somma delle forze che stanno agendo sul corpo, quindi ho due forze non vi pare, ho la forza della molla e ho la forza peso, quindi scrivo meno kx, meno kx più mg. Perché è scritto con più mg? Perché la direzione è positiva verso il basso, d'accordo? Questa è l'equazione del moto. Quando è che l'accellulazione è zero? Quando è che ho la forza zero? Quando è che, cos'è x di equilibrio? x di equilibrio è quella x dove la forza complessiva, quindi dove meno kx di equilibrio più mg deve darmi zero. Cioè la posizione di equilibrio è quella che soddisfa questa equazione. E ovviamente si vede molto urbanamente che l'x di equilibrio è uguale a mg diviso k. Quindi da qualche parte, eccolo qua, c'è un posto che chiameremo x equilibrio, e questo vale mg diviso k, che se il corpo viene portato in questa posizione, se viene portato in questa posizione, chiaramente la molla è allungata, perché la posizione di non allungamento era x uguale a zero. x equilibrio è più giù. Chiaramente nella posizione di x equilibrio la molla è allungata. Però, io noto che non esercito alcuna forza particolare sul corpo, e quando la lascio fermo lui sta fermo. Quindi questa è la posizione di equilibrio, d'accordo? e dove la forza è uguale a zero. La condizione di avere equilibrio è che la forza, cioè l'accelerazione, sia zero. Lo trovate facilmente. Va bene, teniamo a mente questa espressione per cortesia. Dove la scrivo? È già scritta là. Affrontiamolo in modo un po' formale questo esercizio. Questa è un'equazione lineare? Sì. Di che ordine è? Derivata seconda. È onogenea? No. Ok? Perchè l'equazione cosa si fa? Si mette a sinistra tutto quello che dipende dalla x, e vedete che c'è una mg dall'altra parte, non è omogenea. Dividete certo per m, perchè questa è la manipolazione che abbiamo sempre fatto, e vedete che non è omogenea. Quindi dobbiamo andare a quel piedi più un po' per un attimo. Fate una cosa del genere. Dividiamo tutto per m. Ok? Guardate il termine a destra. Metterò in evidenza meno k diviso m. Quindi ho x, e qua cosa ho? Meno mg diviso k. Cos'è mg diviso k? È x equilibrio. Questo è x meno x equilibrio. Questa qua la chiamo y. Y sarà funzione del tempo. Perchè? Perchè x è funzione del tempo. Questa è una costante. Qual è la derivata seconda di y? La derivata prima ovviamente è uguale alla derivata di x. Perchè questa è una costante. A maggior ragione la derivata seconda è uguale alla derivata seconda di x. E quindi questa equazione diventa y due punti uguale a meno k diviso m. Epsilon. Questa è un'equazione che conoscete bene. Sono un paio di giorni che la discutiamo. Quindi voglio fare un esercizio particolare. che il corpo parte da fermo qua. Ok? Voglio che parta da fermo. Quindi cancello un po'. Prendo tutto il disegno e lo sposto verso di là. Cosa fa x in funzione del tempo? Sapendo che inizialmente lui si trova, il corpo si trova nella posizione x uguale a 0. Fermo. Cosa fa? Quindi parte da fermo. E il bungee jumping. Cioè voi in cima al pompe, la molla non è allungata né compressa. Mancano 10 minuti? Si. Ok. Parte da fermo. Io voglio sapere cosa fa x in funzione del tempo. Ok? Allora con questi passaggi vedete che ho introdotto una funzione che è Y. Quindi X di t è uguale a Y di t più X equilibrio. E questa qua è soluzione di questa. Cos'è Y? Y è come se io mettessi un altro asse qua. Un altro asse, la chiamiamo Y. X uguale a 0 cos'è? In termini di Y. Quando questo è uguale a 0, Y cos'è? Y è uguale a X meno X equilibrio. Quindi quando X è uguale a 0, cioè il corpo è là in cima, quanto vale Y? Vale meno Mg diviso K. Quindi questo punto qua è meno Mg diviso K. Cioè Y vale meno Mg diviso K. Quando invece X è uguale a X equilibrio, quanto vale la Y? Quando X è uguale a X equilibrio, X equilibrio meno X equilibrio, avete 0. Quindi Y è uguale a 0 qua. Quindi questo esercizio, il corpo parte da X uguale a 0, ovvero se cambio modo di descrivere la posizione, sta partendo da meno Mg diviso K. Questa è la vostra equazione differenziale che soddisfa Y. Qual è la Y generale? La Y generale è coseno più seno. La forma coseno descrive la posizione iniziale, la forma seno descrive la velocità iniziale. Quindi siccome Y inizialmente, il corpo inizialmente è fermo e parte da Y, da questo Y, voi sapete scrivere subito, a vista, perché state studiando, questo è uguale a cosa? Alla Y0 coseno di Omega 0t. Qual è la Omega 0? Ok? Quindi Omega 0 quadro e K diviso M. Questo posso cancellarlo, faccio lo spazio, tanto la formula è là. questa è la forma di Omega 0. Cos'è Y0 in questo esercizio? Questa è la forma della soluzione quando il corpo parte da fermo, giusto? C'è qualcuno che non ci ricorda quello dovete aver chiaro che quando avete l'equazione dell'oscillatore armonico la soluzione generale è un coseno più seno. Quando il corpo parte da fermo la soluzione per questi tipi di esercizi è un coseno. questo è un esercizio che parte da fermo quindi è la soluzione di tipo coseno. E questo qua rappresenta la Y iniziale che in questo esercizio la Y iniziale è quassù. Quindi nel nostro esercizio, nostro esercizio, parte da fermo? Sì, quindi parte da fermo, quindi avete una forma di questo tipo. nel nostro esercizio Y zero vale meno Mg diviso K. Quindi per il nostro esercizio la Y di T è uguale a meno Mg diviso K coseno di Omega zero T. Dove Omega zero è radice quadrata di K diviso M. Sappiamo che radice quadrata di K diviso M perché lo vediamo a vista qua nella nostra equazione questa è la Omega zero quadro, questa è Y di T. Ma la domanda non è Y di T, la domanda è cos'è X. Cosa fa X del tempo? X del tempo, siccome X meno X equilibrio e questo è Mg diviso K X di T meno questo è uguale a Y e vedete che X di T è Y più questo. Quindi la nostra X di T che è la domanda è Mg diviso K questo più questo. Questa è la nostra soluzione che ovviamente può essere scritta meglio e può anche essere disegnata, non vi pare? La scrivo qua su. Questa è la soluzione dell'esercizio e si tratta solo di disegnarlo. Quindi come la disegniamo? Questa sia l'asso del tempo, questo è Y uguale a zero, questo qua è Y uguale a meno Mg diviso K e questo non è un coseno, attenzione, è un 1 meno coseno. Quindi la prima cosa a notare è questa qua. Quindi la particella, la massa, una volta che lasciate la presa, va giù dove va? Fino a Y uguale a Mg diviso K, cioè a una X che è... ci sarà la base dei tempi, questo è un periodo. Cos'è un periodo? Due pi greco e omega zero. Questo è un metà periodo, un quarto periodo, tre quarti è un periodo disegnato un po' da culo. Tradrizzo e poi vado alla pausa voglio almeno fare disegno. Com'è secondo voi? Lui parte qua, va giù, fa così, fa così e fa così. Attenzione! Questa qua, se ribaltate l'Y è un meno coseno, ma guardate in X, questo è il grafico di X, quindi io qua posso cancellare, non è più meno Mg ma è zero, questa è la coordinata Y, guardatela in X. Questo diventa 2Mg diviso K, questo diventa Mg diviso K e questo diventa zero. È chiaro? Io nego di essere adatto veloce, perché i passaggi sono chiari, ho introdotto una nuova variabile Y. Y che cazzo è? Cos'è il significato di Y? È la distanza della particella dalla posizione d'equilibrio. Cos'è Y? È X meno Mg diviso K. Questo è Mg diviso K, quando Y non è uguale a zero siete qua, a Mg diviso K. Quando Y è maggiore di zero siete più giù della posizione d'equilibrio. Quando Y è negativo siete più su della posizione d'equilibrio. Da dove è partito questo cazzo di pazzo che è saltato con il ben G jumping? È partito da X uguale a zero, ovvero da meno Mg diviso K, è più su della posizione d'equilibrio. Questa retta rossa che sto tirando è la quota di equilibrio, cioè quella a cui se voi mi mettete qua, e siete fermi e lasciate a presa non succede niente, siete fermi. Quindi se voi partite da più su, voi cadete, oltrepassate questa posizione d'equilibrio, scendete, ma non scendete più giù di due volte questa distanza. Perché so questo? Perché la soluzione è quella! E' uno meno un coseno. Cioè questo è Y. Il significato fisico di Y è dove siete rispetto alla posizione, alla quota di equilibrio. Se Y è uguale a zero siete alla posizione d'equilibrio. Se Y è positivo siete più giù. Se Y è negativo siete più su. Ok? Quello ha il significato di Y. Cosa fa Y nel tempo? Y nel tempo soddisfa questa informazione. In questo esercizio il corpo parte da fermo. Quindi ha una Y iniziale. Quanto vuole questo esercizio? E' un valore negativo perché qua su è sopra la posizione d'equilibrio. Quindi Y è negativo. E parte da fermo. Quindi la soluzione che stiamo interessandoci di questo è di tipo Y zero coseno. Lo sto riscrivendo. Ecco perché nego di essere andato più veloce. Perché posso anche andare più lento ma dire esattamente le stesse parole. Questa è la soluzione del tipo che stiamo considerando. Perché il corpo parte da fermo. Y zero rappresenta la posizione iniziale. Che nel nostro esercizio è qui. Che corrisponde a una Y che è uguale a meno mg diviso k. Quindi nel nostro esercizio questa è la soluzione. Se non capite questo vuol dire che non avete studiato la lezione di giorni fa. A questo punto cos'è X. Perché io voglio tornare a usare la variabile originario. Perché io ho chiesto cosa fa X. Parte da X uguale a zero. Cosa fa X del tempo? Fa questo. Perché? Perché X è uguale a questo più mg diviso k. Ok? Forse c'è un segno meno? Doveva essere uno più coseno. Ovviamente. Per questo va di là e cambia il segno no? Ah no no. Y è meno. Sì sì è corretto. Ok. X è uguale a mg diviso k più y. Ma y è meno mg. Ok? Momento di sbannamento. È chiaro? Chi ha detto che andavo più veloce che andavo troppo veloce? Questo dovete meditare e dovete fare il disegno. Lui parte da qua, scende, passa per il punto di equilibrio, mica si ferma. Perché arriva qua in velocità. Quindi supera la posizione equilibrio. Va più giù. Ma superando la posizione equilibrio cosa succede? Che la forza verso l'alto della molla è più importante della forza peso. Quassù quando la molla non era compressa c'era solo la forza peso. La molla non faceva niente perché la molla non era allungata. Ma cadendo la molla comincia a allungarsi e comincia a tirare verso l'alto. Ma finché non arriva qua la forza peso è maggiore della forza della molla. Questa è la posizione dove la forza della molla e la forza della peso sono uguali. Ma lui qua arriva in velocità. Lo supera. Va più giù. E andando più giù la molla è allungata sempre di più. Talmente tanto che la forza della molla verso l'alto è più importante della forza peso verso il basso. E quindi la forza risultante verso l'alto. Risultante verso l'alto cosa vuol dire? Che comincia ad accelerare. Qua sta accelerando l'accelerazione positiva. Qua comincia ad avere un'accelerazione negativa. La velocità diminuisce, diminuisce, diminuisce fino ad arrivare a velocità nulla. E si trova in una posizione dove la forza peso si c'è. Ma la forza della molla è molto più importante. E quindi la forza netta è appunto verso l'alto. Comincia ad accelerare verso l'alto. Comincia a salire. Passa per la posizione di equilibrio in velocità. Lo supera. E farà per sempre a meno che non ci sia un meccanismo di dissipazione dell'energia. che sarà l'attrito con l'aria. E allora avrete un'oscillazione sborzata. Farà boing, 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 boing. E si assesterà. Ma se non c'è attrito questo continuerà per sempre. Pensate molto, molto, molto a questo esercizio. Uno dei miei preferiti. Facciamo la pausa di 10 minuti.